in questo video tutorial andiamo a vedere come scaricare il modulo allegato di di anzianità del servizio dal sito del ministero dell'istruzione del merito la compilazione del suddetto modulo e la il salvataggio del suddetto modulo proprio nell'area di gestione degli allegati per poi inserirlo in domanda scendiamo dalla pagina iniziale del sito del ministero del merito fino alla voce mobilità scuola clicchiamo ed entriamo nell'area mobilità del personale docente educativo e data 24 25 alla voce auto dichiarazioni cliccando troverete sulla sinistra i vari allegati di troverete l'allegato di della dichiarazione dell'anzianità di servizio della scuola primaria l'allegato di dichiarazione dell'anzianità del servizio della scuola secondaria e troverete anche l'allegato di riferito all'anzianità del servizio per il personale ata nel caso in cui la compilazione vada per la mobilità di un personale ata vediamo di scaricare l'allegato ti facendo clic andiamo a scaricare nei documenti questo documento clicchiamo la dichiarazione dell'allegato di c'è la compilazione della dichiarazione dell'allegato di è molto semplice si scrivono i dati anagrafici del docente si dichiara sotto la propria responsabilità di avere effettuato e qui si indica il ruolo di attuale appartenenza per effetto a un dato concorso probabilmente potrebbe essere se uno è entrato il ruolo dalle gae e la legge 124 del 1999 per effetto di questa legge oppure se entrato di ruolo con il concorso ordinario 2020 si inserisce il decreto direzionale di del concorso del 2020 e così via le leggi di riferimento del dato concorso in questa parte si mette il numero di anni di ruolo prestati sia a livello di attuazione giuridica ed economica e eventualmente quelli anche derivanti da retroattività giuridica nella nomina coperti però da effettivo servizio ruolo di appartenenza dunque si mette il totale se si hanno solo uno dei due da compilare si mette il numero degli anni di ruolo effettivamente prestati giuridicamente ed economicamente si mettono qua tutti gli anni dall'alle alla scuola si riempiono le caselle e qui nella seconda tabella eventualmente si mettono gli anni sempre di ruolo con retroattività giuridica però coperti da effettivo servizio si inseriscono in quest'altra in quest'altra tabella si scende e si inserisce evidentemente in questa tabella b il numero di anni di servizio effettuati dopo la nomina in ruolo di appartenenza in istituti siti in piccole isole questo per il raddoppio e del punteggio eventualmente si abbia poi nella casella c si per si inserirà il numero di anni prestato sempre di servizio effettivo dopo la nomina nel ruolo negli nei paesi in via di sviluppo sono quelle dichiarazioni che raddoppiano il punteggio nella casella 2 eventualmente si abbia una decorrenza giuridica della nomina il ruolo non coperta da effettivo servizio si inserisce eventualmente qui il l'anno che giuridicamente è valido ma non è valido ai fini del servizio effettivo prestato perché non coperto da effettivo servizio e inseriamo nella casella b il servizio prestato il ruolo dell'istituzione secondaria diverso da quello di attuale appartenenza cioè se ho insegnato se sono titolare nella secondaria di secondo grado ma o del servizio nella secondaria di primo grado riempio questa tabella altra punto nevralgico che dovrebbe essere compilato e il punto 3 a vedete scendendo il punto 3 a sarebbe il servizio di pre ruolo altro punto nevralgico per i docenti di titolari sul sostegno sono il punto 4 e il punto 5 che rappresenta il servizio di ruolo comunque prestato successivo successivamente alla decorrenza giuridica nel ruolo di appartenenza come docente sul posto di sostegno punto 4 e anche il come pre ruolo nel punto b nel punto 5 invece un'anzianità derivante eccolo qui e chiudiamo con la compilazione di anzianità di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'articolo 5 della legge 603 del 66 nella scuola secondaria superiore successivamente alla nomina il ruolo nella scuola secondaria di primo grado pari ad anima diciamo questo è un punto che quasi nessuno più ormai compila poi si salva il documento si fa salva documento e si poi si inserisce adesso lo salviamo con un nome ben preciso per esempio allegato di mario rossi scuola secondaria mario rossi e poi lo andremo a inserire come vedremo nella gestione degli allegati rientrando in istanze online con lo speed andando alla voce che vedete qui altri servizi cliccando su altri servizi troverete fra gli altri servizi possibili la gestione allegati la trovate in più in basso gestione allegati vai al servizio cliccando su vai al servizio e facendo avanti entrerete in questa pagina facendo ancora avanti entrerete in una pagina riferita ai dati personali facendo ancora avanti troverete la pagina dove gestire l'allegato entrati appunto in questa pagina dove si gestisce l'allegato scendendo più in basso troverete ecco la possibilità di inserire di inserire un allegato dunque il tasto inserisci serve per trovare l'allegato facendo inserisci ci mettiamo nelle condizioni di dare la il nome all'allegato per esempio si può digitare il nome allegato di mario rossi in modo da poter indicare poi si fa scegli il file si sceglie il file eccolo qui il file allegato mario rossi si clicca e facendo conferma noi troveremo il facendo quindi salva noi avremo l'allegato che è stato inserito correttamente potremo andare a vedere che questo allegato è regolarmente inserito eccolo qui allegato di mario rossi pronto per essere utilizzato nella domanda di mobilità andiamo a vedere adesso nelle istanze online della domanda come si richiama questo allegato di mario rossi entrando nella sezione compilazione della domanda fra le otto voci indicazioni allegati vedete che qua in fondo c'è l'indicazione allegati e più in fondo ancora c'è la possibilità di salvare gli allegati con il tasto salve dunque di salvare la domanda andando su indicazioni allegati e cliccando su voce 1 troviamo l'allegato di mario rossi che posso inserire allegato di mario rossi regolarmente compilato poi facendo salva in fondo io salvo la mia domanda con le la l'allegato inserito chiaramente la domanda degli alert rossi perché non ho riempito alcune caselle valide come per esempio la casella 36 del riferita al tipo di posto per cui voglio che obbligatoria la scelta del tipo di posto obbligatoria vedete se io voglio compilarla proprio correttamente per intero dovrò andare a selezionare per esempio il tipo di posto perché può essere tipo di posto normale e quindi fare di nuovo salva e con questo tipo di posto già la voce rossa che mi era stata precedentemente inserita scomparirà rimarrà solo una voce rossa indicare almeno una preferenza di codice perché obbligatoria e se vado a inserire una preferenza aggiungo aggiungi preferenze e dunque vado a inserire per esempio nella calabria nella provincia di reggio calabria una scuola dunque faccio conferma e dunque oppure un distretto faccio il distretto 30 e ho inserito e dunque rifaccio salva a questo punto la domanda mi viene salvata regolarmente tutta quanta con non è possibile richiedere la propria scuola di titolarità era il era il mio codice di titolarità per cui devo andare a inserire una preferenza diversa dal mio codice per cui tolgo questa preferenza aggiungo una preferenza che sia diversa da quella del mio codice di titolarità per esempio il distretto ecco prendo cosenza che sono sicuro che non ha non è la mia titolarità scelgo il distretto 15 di cosenza faccio conferma e a questo punto realmente la mia domanda è salvata senza allerte rossi è salvata correttamente chiaramente non compilata tutta ma salvata correttamente ecco speriamo che questo video sui la gestione degli allegati sia chiaro a tutti voi e continueremo con altri video per la compilazione la domanda grazie a tutti